ricetta di oggi muffin salato ecco gli ingredienti 40 grammi di lievito un cucchiaino di sale 2 uova 180 grammi di burro 100 grammi di porro 200 grammi di oliva nera snocciolate a pezzi 100 grammi di brì 100 grammi di grana a pezzi mezzo litro di latte 600 grammi di farina aggiungi alla farina il lievito e un cucchiaino di sale con il cucchiaio mescola bene prendi i 180 grammi di burro versali in un pentolino poi portalo al fuoco lascia sciogliere il burro versalo in una ciotola e aggiungi il latte rompi le due uova e mischiali bene aggiungi al latte e al burro fuso lentamente ma ben lentamente aggiungi la farina e mischia pian piano con il cucchiaio a non sbattere troppo di seguito aggiungi il ripieno e mescola per bene avrai bisogno di circa 20 formini d'alluminio per muffin versa l'impasto preparato nelle formine lasciando lo spazio sufficiente per la levitazione circa un quarto metti in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti aspetta che si raffreddino un po' e con l'aiuto delle forbici apri le formine 500 grammi di pomodori pelati una cipolla tagliata a pezzi un dito di latte mezzo bicchiere di vino rosso 300 grammi di seitan tritato un po' e con l'aiuto